Buona domenica 3 aprile. Il Vangelo di oggi ci parla della presunzione e della ipocrisia degli scrivi, dei farisei, degli anziani del teppio, ma di ogni tempo compresa la nostra. Vogliono mettere alla prova Gesù, portando una donna che è stata colta in flagrante adulterio e chiedono a Gesù che cosa prevede la legge di Mosè, la forma della legge, la lapidazione ovviamente, glielo ricordano, ma Gesù risponde mettendoli profondamente in crisi ed esprime la frase nota, conosciuta, che tutti noi spesso ricordiamo quando si entra in una controversia tra torto e ragione. Chi ritiene di essere senza peccato scagli la prima pietra contro di lei. Naturalmente una presunzione di essere senza peccato è terribilmente peccaminoso, è un peccato di presunzione. E i farisei, i scrivi, gli anziani, i cultori della forma della legge, a quel punto, visto che Gesù non dice altro, sta seduto e scrive, scrive per terra. Se ne vanno. Se ne vanno probabilmente indignati per essere stati messi in crisi. E a quel punto Gesù solleva lo sguardo, guarda la donna e dice, se ne sono andati? Qualcuno ti ha condannata? E la donna risponde, no, nessuno mi ha condannata. Eppure io ti condanno. Va e non pecare più. Ecco, nella semplicità di questa rappresentazione che parla al nostro cuore e alla nostra mente, a non farci mai giudici degli altri, perché quando lo facciamo dimentichiamo il nostro essere peccatori. La presunzione è di essere dalla parte della perfezione, integerrimi. Abbiamo odempiuto a tanti obblighi che la legge prescrive, ma non ci siamo sottratti alla seduzione del giudizio nei confronti del prossimo. Gesù non è soltanto magnanimo. Interpreta l'infinita misericordia di Dio, lui che è il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. Non si limita semplicemente a perdonare. Invita anche la donna ad andare e non peccare più. Vedete, in questo passaggio dell'assenza del giudizio non c'è la giustificazione del male e del peccato, ma semplicemente una strada che invita costantemente alla conversione, alla redenzione, senza mai essere sottoposti all'egida del giudizio. E questo è un modo di vivere improntato all'accoglienza, alla misericordia, alla benevolenza, che noi facciamo molta fatica a praticare, a tradurre in pratica nei nostri comportamenti quotidiani, quando ci facciamo giudici del prossimo. In tanti modi, infiniti, per le diversità riscontrate, per atti che riteniamo profondamente ingiusti, ma non ci accorgiamo, questo ci porta alla questione della trave e della pagliuzza, che proprio il nostro modo di essere presuntuoso ospita in sé il primo di tutti i peccati, che è quello di presunzione, che appunto ci rende giudici senza misericordia. Ecco che allora dobbiamo seguire alla lettera questo invito di Gesù, applicarlo a noi stessi, non essere neppure giudici severi di noi stessi, perché rischiamo di irrigidirci nelle nostre posizioni. Gesù apre una prospettiva di grande liberazione, fa sì che l'anima, il cuore, la mente delle persone vivano nella relazione, dove c'è nessuna possibilità di giudizio, e laddove c'è l'aspetto giudicante non c'è possibilità di relazione, quindi il passaggio del Vangelo di oggi è estremamente indicativo e deve essere ascoltato in una prospettiva di costante conversione. Buona giornata a tutti.